E adesso una piccola intervista a Basile, un pescatore di Sente. Buongiorno, buongiorno, siete un pescatore, un pescatore, bene, ma com'è la situazione del pesce oggi qui? Ah non c'è molto pesce, e perché? Perché c'è molto inquinamento? Ci sono anche dei piccoli battelli, diciamo delle imbarcazioni che calano le reti, e allora la sera diciamo mettono le reti e così depredano un pochino il mare. E qu'est-ce che voi pensate per il futuro? Est-ce che il futuro va essere migliore di ora? Il va essere migliore, migliore. Dice che il futuro sarà ancora peggior. E come si appellate, Messier? Basile. Basile, Basile. E avete origini italiane? Si. E dice il signore che ha delle origini italiane. Siciliano, vous avez dit, Napolitano. Je suis Siciliano, anch'io sono siciliano. Si, si, si. E vous avez jamais été en Sicile? Non, non, pas visité, pas encore. A Stromboli, non, du côté de ma mère Stromboli. Stromboli, Stromboli, vos ancêtres sont des Stromboli? Ah, praticamente diciamo che vengono da Stromboli i suoi antenati. E sei votre grand-père o...? Non, du côté de ma mère. Ah, dal lato della madre, praticamente. E allora, bonne chance, Messier. S'ha été un plaisir de vous rencontrer. Piacere della conoscenza, amico. D'accordo. Va bene, buona giornata. Ciao. Ciao.